Le aree precedentemente designate come zone rosse e le pratiche preventive, come il distanziamento sociale, sono ora fortunatamente un ricordo lontano. Oggi, possiamo festeggiare il Natale in compagnia dei nostri cari senza preoccuparci di generare nuovi focolai. Tuttavia, non possiamo ignorare il fatto che, nelle ultime settimane, sempre più persone presentano sintomi influenzali. Benvenuto su Febbre da Gossip! Prima di scoprire le dichiarazioni di Bassetti, vogliamo ricordarti di premere il pulsante Iscriviti e di condividere il tuo supporto con un mi piace. La tua partecipazione è preziosa e ci aiuta a continuare a fornire contenuti di qualità. Ti ringraziamo di cuore per il tuo sostegno. Intervenendo su TG.com, Matteo Bassetti ha sottolineato alcune precauzioni da seguire. È importante ricordare che la migliore forma di protezione per i nostri anziani non è evitare gli abbracci, ma piuttosto vaccinarsi. Secondo il direttore della Clinica delle malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova, il vaccino rimane lo strumento più efficace per combattere sia il Covid-19 che l'influenza. Osservando i dati, Bassetti suggerisce che potrebbe esserci una proporzione del 40% per l'influenza e del 60% per il Covid-19. Pertanto, secondo lui, sarebbe meno efficace optare solo per una vaccinazione. Egli paragona la scelta di vaccinarsi solo contro l'influenza o solo contro il Covid-19 a indossare un casco integrale mentre si guida una moto senza allacciarlo. Il medico ha infine dichiarato. Fatevi questo dono di Natale. Scegliete la protezione completa, vaccinandovi contro entrambe le malattie. Cosa ne pensi delle dichiarazioni di Bassetti? Ti invitiamo a lasciare un commento alla fine del video per esprimere la tua opinione e a iscriverti al canale attivando le notifiche con la campanellina per non perdere tutti i prossimi aggiornamenti. Grazie per aver guardato questo video. A presto con un nuovo contenuto. Grazie per aver guardato questo video.